L'accordo era atteso con ansia, soprattutto dopo che in borsa il nodo sofferenze aveva trascinato in rosso le banche italiane. Ebbene, dopo una lunga trattativa, Roma e Bruxelles hanno trovato la quadra. Un meccanismo di garanzie statali per aiutare gli istituti a liberarsi dei crediti inesigibili, che saranno rivenduti a investitori privati sotto forma di cartolarizzazioni attraverso speciali veicoli finanziari. Per evitare di incorrere nell'accusa di aiuti di Stato, le garanzie copriranno solo le tranche privilegiate dei debiti, cioè le componenti più sicure, e saranno a prezzi di mercato.